Quinto giorno consecutivo di proteste in Polonia in difesa del diritto delle donne all'interruzione volontaria di gravidanza, messo seriamente in dubbio da una recente sentenza della Corte Costituzionale. Manifestazioni si sono svolte oltre che nella capitale, Varsavia, anche in altre 150 località, grandi e piccole, del paese. Vogliono la guerra, hanno superato davvero ogni limite. Se un giorno avrò una famiglia e la mia gravidanza dovesse essere in pericolo, credo che in quel caso penserei di lasciare la Polonia. Dopo la sentenza della Corte, l'interruzione volontaria di gravidanza è illegale solo in caso di rischio per la salute della donna, di stupro o di incesto. Secondo una stima, ogni anno si effettuano in Polonia 1.100 aborti legali, a fronte di circa 200.000 aborti clandestini o compiuti all'estero, a causa delle norme restrittive volute dai governi di centrodestra.